Giulietta Zamperini, Presidente del Consorzio Vino Orcia. È assolutamente importante, dà valore, dà riconoscibilità e soprattutto per i prodotti anche più piccolini, dei consorzi più piccolini è assolutamente molto importante. Allora, l'annata è andata bene nonostante le difficoltà iniziali, è un prodotto che è imprescindibile dal territorio. Ovviamente facciamo parte di un parco unesco che ci lega fortemente a un'immagine importante, un'immagine iconica della Toscana e ovviamente i numeri sono piccoli, produciamo neanche 300.000 bottiglie ma la forza dei produttori è quella di raccontare la propria artigianalità e la loro unicità attraverso i propri prodotti. L'innovazione deve essere sempre al primo posto, ovviamente con le piccole forze che abbiamo però è un valore importante legato alla sostenibilità che sono due fattori che si legano tra loro e che sono ovviamente il futuro, anche e soprattutto per le piccole aziende.